E se vi dicessi che si può fare un calcolo statistico che ci può indicare dove siamo diretti, a quale target price con Bitcoin nei prossimi giorni e che lo faremo oggi utilizzando questo grafico di Bitcoin, che cosa ne pensate? In questo punto specifico, esattamente, Bitcoin si trova ad un bivio, ad un varco, ma attenzione perché i grafici precedenti, quindi i dati precedenti, questa zona qua ci sta dando un'indicazione su dove questo movimento può arrivare nei prossimi giorni e quindi quale target price possiamo toccare in questa struttura di uptrend di Bitcoin che è un ciclo trimestrale. Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video, finalmente un video di analisi. Andiamo a riprendere tutte quelle che sono le indicazioni macro di Bitcoin, andiamo a riprendere tutte quelle che sono le fasi cicliche del mercato delle cripto dopo questo, diciamo, pesteggiamento, dopo questo capodanno misto cripto della scorsa settimana dove il mercato ha dato un'app notevole e dove soprattutto ha indicato una strada notevole grazie alla questione ETF sì o no relativamente perché l'ETF ancora è tutto in divenire, quindi non è stata approvata, sicuramente c'è molto hype, però la questione legata all'incremento di questa settimana, da un punto di vista di analisi tecnica, da un punto di vista di analisi ciclica, ha dettato, legge, soprattutto cambiato i canoni, modificato quelle che sono alcune prospettive. Allora, prima di andare avanti ovviamente ragazzi vi chiedo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto e poi lasciatemi i pollicioni, un mi piace su così possiamo andare avanti, mi aiutate ovviamente con l'algo di YouTube. Allora, ragazzi, intanto facciamo una cosa, andiamo per gradi, come sempre andiamo a vedere quelli che sono i dati macro attesi per questa settimana. Sì, perché questa settimana, anche se non dovrebbe essere estremamente, diciamo, volatile da un punto di vista di dati, ci sono una sfilza di dati tra le altre cose, quelli importantissimi, relativi a mercoledì 1 novembre, perché c'è la decisione sul tasso di interesse della Federal Reserve che dovrebbe essere scontato, che resterà praticamente stabile, ma soprattutto c'è la conferenza della FONC dove Powell parlerà e dove ci dirà esattamente che cosa si aspetta. Sta rallentando il sistema economico, l'inflazione sotto controllo, abbiamo visto negli ultimi mesi un rimbalzo del tasso di inflazione, soprattutto un PIL che non ne vuole sapere di scendere, anche se molti istituzionali stanno indicando che il quarto trimestre dell'anno sarà più debole relativamente al PIL e questo in questo momento è un dato positivo, cioè il fatto che riusciremo in pratica a controllare quello che è il tasso di inflazione. Comunque, occhi puntati rigorosamente alla mercoledì, ma anche il 31, quindi domani, c'è l'IPC, quindi l'indice dei prezzi al consumo della zona euro, atteso stranamente uguale al precedente, quindi sostanzialmente stabile anche in questo caso. Questi sono stati tutti gli andamenti, vedete come il tasso di inflazione europeo ancora è alto, però non è in fase di ripresa teoricamente, quindi il prossimo dovrebbe essere teoricamente previsto il ribasso, bisognerà andarlo a vedere. Allora, qui porta un'analisi di un ribasso addirittura di un punto percentuale, vedremo se sarà così, probabilmente no, probabilmente assisteremo a un tasso un po' più alto, però sostanzialmente già domani abbiamo qualche idea, anche se non credo che questa cosa modificherà l'attuale movimento dei mercati. In particolar modo, occhi puntati sul mercoledì, poi abbiamo i classici sussidi di disoccupazione, il tasso di disoccupazione è atteso, identico, troppo basso, relativo ai precedenti, quindi dati legati alla questione recessione non lasciano intendere ancora nulla all'orizzonte a livello recessivo, anche se dobbiamo inserire a prepararci perché sicuramente la recessione potrebbe essere effettivamente un punto di arrivo. Vi faccio vedere, tornando al grafico di prima, così facciamo tutti i calcoli di rito. Allora, passiamo per quanto riguarda Bitcoin, l'analisi ciclica, l'analisi di questa settimana che cosa ci dice? Noi siamo sul secondo ciclo mensile di questo ciclo trimestrale, fatto più o meno da 80-90 giorni, teoricamente io l'ho posizionato in scadenza in questa zona di dicembre, cioè al venerdì dell'Immacolata, quindi 8 di dicembre, teoricamente però ragazzi abbiamo una scadenza la prossima settimana, 10 novembre, per quanto riguarda il mensile, scadenza che però è stata impostata a 30 giorni precisi, un po' randomica, difficile che faccia con precisione questo tipo di scadenza, comunque intorno alla prossima settimana, 10 di novembre, tra le altre cose, è venerdì della prossima settimana, quindi in teoria possiamo anche eccedere quella giornata e quindi andare nella successiva, quindi dalla 13 di novembre in poi per fare la chiusura, la scadenza. Teoricamente però già è possibile dalla prossima settimana, mercoledì e giovedì, iniziare a dimostrare una fase di respiro. Fase di respiro che prelude però a cosa ragazzi? Grazie al fatto che in questi giorni, in questa settimana, il mercato Bitcoin potrebbe in effetti dare l'ultimo sviluppo a questo trend. Intanto è stato importantissimo il breakout che è avvenuto nella scorsa settimana, intanto perché è stato un breakout consistente dei livelli di resistenza intorno ai 31.500-32.000, dopodiché non è stato solo consistente ma è avvenuta anche una conferma sul grafico settimanale. Ecco il grafico settimanale è tra l'altro limpido, è assolutamente evidente come il mercato ha fatto questo breakout e l'ha confermato, quindi il livello di 32.000 dollari circa adesso diviene in pratica un livello di supporto, non è più un livello di resistenza, quindi questo magari nei prossimi mesi potrebbe essere anche toccato in fase di pullback. Non è detto ragazzi perché vi ricordo che quando partono i livelli di bull non è che il mercato torna indietro, per esempio quando qui è stato breccato il massimo storico del 2019-2018 nella bullrun del 2020, vedete non è mai tornato il prezzo a fare il pullback di questo livello, mai, quindi questa cosa non è in pratica del tutto vera, tra le altre cose non è tornato neanche nella fase di bear market successiva del 2022, giusto per farvi capire come questa questione dei pullback a volte è un pochettino incompresa, cioè l'analisi tecnica ragazzi non è un'analisi che può essere letta e applicata come così quei paraocchi, l'analisi tecnica dovete imparare ad applicarla, va bene, ovviamente non basta leggere un libro, ovviamente non basta guardare un video, ovviamente vi serve tanta esperienza per comprendere ed essere analisti, no, io posso scrivere in italiano corretto ma non sono tante alighieri ragazzi, no? Ok, se scrivo una poesia, questa è la differenza, allora gli analisti sono analisti, per essere analisti ragazzi dovete dedicarvi a quel tipo di attività, ci vuole tanto tempo, però le cose di base potete assolutamente comprenderle anche con pochissimo tempo a disposizione, quindi non è difficile, allora questa zona qui è stato un breakout confermato, quindi questo livello diventa adesso un supporto e soprattutto configura la continuazione del trend rialzista che era iniziato a novembre del 2022. Fate caso come le due medie mobili che abbiamo utilizzato dall'inizio di questa tornata, che sono le medie che sul settimanale rappresentano il semestrale e l'annuale, siano state funzionali al livello di supporto, cioè il mercato ha chiuso questa fase appoggiandosi all'interno di queste due medie che fungono appunto da supporto e da lì in poi ha ripreso la sua struttura. Queste due medie poi vedete come anche negli anni precedenti avevano funzionato anche a livello di resistenza quando il mercato è diventato poi ribassista. Mettetele sul grafico, le medie di Caimi 26,52, sono medie molto interessanti e molto importanti per chi di voi vuole avere un orizzonte di medio-lungo periodo perché ragionano in termini di mesi-anni, non in termini di breve, quindi sono veramente interessanti. La candela settimanale in questione non lascia informazioni al riguardo se è una candela di inversione o meno. Questa è una candela palese di continuazione del trend, identica anche alla precedente, vedete che aveva fatto più 10 e poi ha sparato un più 15 nella settimana successiva, quindi anche qui non c'è nessuna indicazione e Bitcoin può continuare a salire tranquillamente. L'unica questione statistica che possiamo vedere è che dall'inizio della nuova fase di trend di Bitcoin nel 2022 di candele così consistenti a livello settimanale tutte green ne ha fatto solo 3 nell'inizio di questo ciclo annuale che è avvenuto qui. Quindi ha fatto 1, 2, 3, 4, però le consistenti erano 2, quindi poi successivamente ha sparato un'altra candela, però piccolina, quindi teoricamente non ha avuto grandi impulsi in questa fase, però negli anni precedenti li faceva più costanti, quindi dipende anche dalla fase di bull che stiamo andando ad affrontare. Da un punto di vista tecnico, l'attuale livello di resistenza è dato dai 36.000 dollari. Ok, io lo so che molti di voi diranno no, è più basso, no, è 36.000 dollari. L'attuale livello di resistenza non è dato dai massimi della scorsa settimana che sono 35.000 e 2, ma è dato dai 36.000 dollari, ok ragazzi? 35.8, 36.000 al massimo. Perché questa cosa? Perché è un livello importantissimo, risalente a tanto tempo fa, adesso non mi dilungo se no il video viene di 13.000 ore, però insomma segnatevi questo livello. Il livello di resistenza attuale è padatappo, quindi il mercato in questo ciclo mensile che sta sviluppando o va a breccare questo livello, quindi accelera e si sposta al successivo livello che è dato poi da 39, quindi o va a breccare questo livello, sale e poi chiude il ciclo mensile, in pratica, facendo magari un pullback eccetera, questo sì, perché magari sarà vicino di qualche migliaio di dollari, oppure si ferma qui questo rialzo e aspetta la chiusura del ciclo mensile per poi prendere fiato e poi decidere successivamente che cosa fare, quindi in pratica solo con gestione per tutta questa settimana. Io sono ancora dell'idea che questa settimana può spingere un po', anche per una questione legata ai cicli inversi e quindi teoricamente potremmo assistere in effetti al tentativo di breakout dei 36.000 dollari, 35.000 e 8-36.000 dollari, tentativo che Bitcoin potrebbe anche portare a segno in un'eventuale spinta di fiato finale, quindi l'ultimo impulso diciamo prima della chiusura di questo mensile, poi tutto sarà rimandato a questa fase qui, questo successivo mensile che in teoria ha l'onere di andare a indicarci un massimo storico di periodo importante per il mese di novembre barra dicembre 2023. E sì, perché molte delle questioni cicliche si sono modificate ragazzi, vediamo se riuscirò a fare degli approfondimenti dedicati, volevo farlo questa settimana ma in realtà questa settimana voglio fare un video diverso che parlerà del video di lungo periodo dell'analisi di Bitcoin legato agli altri mercati istituzionali, un video a cui tengo moltissimo e che sarà una bomba ragazzi, quindi mi raccomando non ve lo perdete, iscrivetevi al canale, probabilmente uscirà o mercoledì o venerdì e quindi l'analisi ciclica come si è modificata la rimandiamo, però in realtà questa struttura ci dice anche che il massimo previsto per questa fase storica potrebbe essere proprio tra novembre e dicembre, proprio in questa zona, in questo rettangolone qui ragazzi, in questa fase. E quali saranno i livelli di pricing? Lo andiamo a vedere come vi avevo promesso in questo video facendo un calcolo di natura statistico-matematica. Allora andiamo a confrontare lo sviluppo di quelli che sono stati i precedenti cicli trimestrali, non quelli storici ma quelli di questa fase ciclica, quella che ha incorporato il tasso alto, incorporati i rischi inflazione, incorporati le questioni belliche e tutto il resto, quindi la fase attuale, quella che è iniziata da novembre, quella che è più vicina a noi. Lo sviluppo di tutti i trimestrali, io li ho indicati qui, 109 giorni, 97 giorni, 88 giorni e questo gli ho dato lo stesso spazio del precedente, 88 probabilmente sarà un po' più lunghetto ma non è importante capire il giorno preciso, è importante capire che questi sono quattro cicli trimestrali che Bitcoin sta andando a sviluppare. Questa fase ci dà una mano nelle fasi di app di ogni struttura trimestrale. Allora qui ragazzi abbiamo avuto nel primo trimestrale un più 62% tra il minimo e il massimo, nel secondo trimestrale siamo andati un po' più down, abbiamo avuto un 56%, circa 57% di up. Il terzo trimestrale, quello che teoricamente è stato neutrale, non rialzista, ha avuto un 30% di rialzo, 28% circa. Questo trimestrale che non fa parte probabilmente di questa struttura per tanti motivi. Primo ha una pendenza estremamente più orientata a questo trimestrale qui, quello da 57% e poi soprattutto sta facendo i massimi nella seconda fase o nella parte centrale del ciclo trimestrale, questo implica che il fatto che questo trimestrale possa essere neutrale è decisamente molto difficile. Il cluster di probabilità è molto molto basso ragazzi, quindi il fatto che possa fare una cosa del genere intendo è veramente molto basso, può succedere qualsiasi cosa però è basso. Qual è quindi una corretta sviluppo secondo me di questa struttura trimestrale? Quella più legata al trimestrale numero 2 di questo ciclo annuale che stiamo vedendo e quindi in pratica arrivare intorno ai 55-56 punti percentuali. Qui abbiamo un'indicazione notevole e anche interessantissima cioè 38.8-39.000 dollari. Questo potrebbe essere in effetti il livello target che possiamo in effetti raggiungere alla fase finale di questo impulso che dovrebbe arrivare entro novembre e dicembre. Quindi short term non long term ma è interessante ragionare così in termini di estensione. Potrebbe in effetti essere similare. Poi ovviamente il mercato può fare di meno o di più ragazzi. Questi sono punti che dobbiamo tenere sotto controllo. Questo punto tra le altre cose non è casuale, deriva appunto da un dato statistico, non è derivato da un'analisi tecnica in versione geometrica, quindi da figurazioni tipo il testa a spalle e roba del genere, ma è un dato statistico matematico perché deriva dalla volatilità espressa dall'asset sottostante nell'arco degli scorsi 360 giorni perché siamo più o meno a un anno di distanza dall'inizio di questa fase di alzista di bitcoin iniziata novembre scorso. Perciò non è un dato casuale. 50 punti percentuali dai minimi più o meno. Io vedete non sono, non sto lì preciso a mettere i numeri precisi perché non ha senso ragionare così, ve lo dico 20 volte, per questo non guardo il minimo. Faccio un'analisi che statisticamente si definisce più qualitativa che quantitativa per indicare appunto dei livelli più o meno grossolani perché non ci interessa che siano puntuali all'ennesimo dollaro perché i mercati non rispettano così, dovete lasciare sempre gradi di libertà al mercato di muoversi e quindi ragionare in termini di aree, strutture, non in termini di puntigliosità a meno che non siete un HFT, quindi un high frequency trader e quindi fate cose da istituzionali però non è quello che facciamo qui e soprattutto non abbiamo la potenza economica e di calcolo per fare quelle cose. Allora 38.009, zona target possibile entro dicembre, io qui lo inserisco così poi lo andiamo a rivedere, target 1 deck 23 che potrebbe essere raggiunto in effetti proprio in questa zona. Oddio cosa ho fatto, eccolo qui, volevo bloccarlo in modo da averlo. Allora questo significa che questa zona potrebbe essere anche intuitivamente, quindi breccata questa settimana, chiuso, la teoria diciamo più classica dice chiuso il ciclo mensile, raggiunto il target che vi dicevo entro novembre e dicembre e poi chiuso il trimestrale. E da qui un grande punto interrogativo, un grande punto interrogativo da un punto di vista ciclico perché proprio dalla chiusura di questo trimestrale in poi, verso fine anno in poi, ci sono due ipotesi che si sono andate a configurare con i rialzi della scorsa settimana, sono entrambe molto molto belle, però una vede proprio la scadenza di dicembre come una scadenza tecnica molto importante dove da lì potrebbe in effetti iniziare una fase di correzione un po' più pronunciata. Attenzione, non parliamo di correzioni bear market, parliamo di correzioni di respiro come quelle che magari abbiamo visto nei mesi precedenti. sarà vero sì o no perché c'è anche un'altra view che a me sta molto a cuore che non dice proprio così. Ne parliamo nel prossimo video, nei prossimi video, probabilmente non questa settimana, la prossima. State sempre allerto, quindi stay crypto ragazzi e noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!